eccolo qui luna questa è luna l'ultima arrivata guardate come corre con la sua mamma felici eccole anche gli altri angus piccolini li vedete come sono felici guardali 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 guarda luna com'è contenta le nostre occhi fantastico olè ciao speranza è arrivata anche speranza buongiorno arriva la nerina eccola la la nostra mandria altri sono fuori ancora nei prati nei boschi eccola qua che arriva nerina guarda Grazie.